Applausi Poi si segna la... secondo caso di nebbia La cassa è una velatonda e la quadrada C'aveva un buco e mezzo con una chitarra Insomma, era un'erografica Poi... Me l'hanno... Se l'hanno già montiare Ritorno a 1600 tirano Primo a post Secondo nello che comincia con tre corve La quarta viene soltanto con verde E quindi viene messa anche una chitarra Un po' molto più basso E quindi come c'è da assumere questa cosa E' rimasto un attocco Un attocco Continuiamo con l'erografica E poi tenteremo una cosa mai tentata Al posto E' una quinta sinfonia di Pedro 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 E' una quinta sinfonia di DNA Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.